Signor Sindaco, si è appena conclusa la riunione in prefettura con i sindacati Tradeco e rappresentanti dell'azienda. Com'è andata questa riunione? La seduta è stata formalmente sospesa per un aggiornamento alla settimana prossima perché abbiamo richiesto alla Tradeco di impegnarsi in maniera continuativa a consentire al Comune di Imperia il pagamento degli stipendi dei lavoratori e non in maniera estemporanea ogni volta che se ne presenta l'occasione, cioè praticamente tutti i mesi. Quindi quello che abbiamo chiesto è una continuità anche a tutela dei lavoratori, soprattutto per quello. Il problema è che il direttore del cantiere di Imperia non ha il potere di firma e quindi c'è bisogno di avere un documento firmato e legato al rappresentante che dovrebbe giungere la settimana prossima. In ogni caso, analizzando come dirigente e ingegnere croce nel settore ambiente, abbiamo anche valutato la possibilità da parte del Comune di effettuare dei pagamenti in acconto che quindi possono superare la problematica di avere l'autorizzazione dell'azienda o di aspettare 15 giorni nel senso di articolo 5, codice appalto. Spero di non dover arrivare a questo punto, però c'è anche questa possibilità. Direi che comunque posso ritenere che lo shop però credo che sarà ritirato perché ci sono le condizioni per che ciò appenga. Grazie.